Tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso si scatena in America una versione contemporanea della caccia alle streghe nota come satanic panic, panico satanista, secondo la quale migliaia di donne della classe media sui 30 anni iniziano a ricordare nel corso di sedute psichiatriche abusi infantili a forti tinte sataniche. Ma come fanno queste donne a ricordare questi eventi di cui si erano completamente dimenticate grazie a una tecnica molto particolare, a una forma di ipnosi detta regressiva che permetterebbe di tornare indietro nel tempo e rivedere il proprio passato. Ebbene questa tecnica è utilizzata da tantissimi personaggi molto discutibili. Alcuni vogliono recuperare ricordi passati che forse non sono mai accaduti, altri vogliono recuperare vite precedenti, addirittura, e magari in un prossimo episodio parleremo specificamente di quello, e altri ancora, l'abbiamo visto nell'episodio dedicato alle abductions, pensano di poter riportare alla luce storie incredibili come quelle di presunti rapimenti alieni. Ma quanto è credibile, quanto è affidabile questa tecnica? Ne parliamo oggi. Ben trovati i naviganti nella mia stanza della meraviglia. Vedete, Lucy fa sempre la brava, e quindi direi che ormai abbiamo superato quella fase in cui non ci capivamo, vero Lucy? E quindi possiamo raccontare oggi una storia terribile perché ha avuto delle conseguenze davvero devastanti per tante persone. Siamo nel 1980. Viene pubblicato un libro intitolato Michelle Remembers, cioè Michelle Ricorda, un memoir in cui la 29enne canadese Michelle Smith, autrice del libro scritto insieme al suo terapista, lo psichiatra Lawrence Pasder, diventato in seguito suo marito, rievoca la sua infanzia tormentata dagli abusi. Però non si tratta di ricordi dolorosi con cui la donna convive da sempre. Ma si tratta di memorie sepolte, come vengono chiamate, che riemergono solo in determinate condizioni, ovvero quando la paziente viene sottoposta a una discussa, pratica nota come ipnosi, regressiva. L'idea è che un soggetto ipnotizzato proprio per via dello stato di rilassatezza che raggiunge dovrebbe essere in grado di ripescare dalla sua memoria ricordi precisi di episodi verificatisi nel passato, addirittura nell'infanzia. E i ricordi di Michelle sono come minimo sconvolgenti. La donna era entrata in cura per una depressione dopo aver perso il figlio per un aborto spontaneo e sentiva di avere qualcosa di importante da raccontare, ma non ricordava cosa. Pasder dedica oltre 600 ore di terapia per cercare di aiutare la donna a ricordare, finché un giorno Michelle remembers. Michelle inizia a ricordare e inizia a gridare e continua a farlo per 25 minuti. Alla fine inizia a parlare con una voce che sembra quella di una bambina di cinque anni e racconta terribili abusi e rituali satanici perpetrati su di lei dalla madre, nel frattempo venuta a mancare, e da altre persone che a suo dire facevano parte di una setta satanica. Racconta di essere stata torturata, violentata, chiusa in una gabbia e costretta a partecipare a rituali orrendi, a base di orge, sacrifici rituali, stupri. Racconta che una volta era stata interamente coperta di sangue, appartenuto ad adulti e bambini sacrificati, e che parti dei loro corpi le erano state strofinate addosso. Quando il libro esce, ottiene un incredibile successo e dà il via a una vera e propria mania che porta decine di donne a raccontare di aver vissuto esperienze simili a quella di Michelle, emerse anch'esse durante sessioni di regressione ipnotica. E i programmi televisivi dedicano uno spazio enorme a questo tipo di storie. C'è un solo problema. Michelle non offre una sola prova che possa dimostrare la veridicità dei suoi racconti horror, che nel frattempo hanno fruttato a lei e al marito terapista centinaia di migliaia di dollari in diritti d'autore e proposte per trasformare la vicenda in un film. Il padre di Michelle smentisce ogni singola parola contenuta nel libro, così come fanno amici, conoscenti, persino il medico di famiglia, farneticazioni isteriche di una fantasia iperattiva, della definizione più frequente che si sente ripetere tra coloro che conoscevano Michelle Smith e la sua famiglia. Quando, di fronte all'impossibilità di accertare anche solo una delle affermazioni di Michelle, due giornalisti del quotidiano Mail on Sunday intervisteranno, anni dopo il dottor Pasdar gli chiederanno «è importante se queste cose sono vere o la cosa più importante è il fatto che Michelle credeva che fossero successe?» risponde «sì, è così. È un'esperienza reale. Se parlate con Michelle oggi vi dirà «questo è ciò che ricordo». Lasciamo ancora aperta quella domanda. Per lei era molto reale. Ogni caso di cui sento parlare mi lascia scettico. Bisogna completare un lungo percorso di terapia prima di poter raggiungere qualche conclusione. Tutti vogliamo confermare o smentire ciò che è accaduto. Ma alla fine non è importante. E invece è molto importante per i milioni di americani che, esposti continuamente a programmi e speciali televisivi sul tema degli abusi infantili legati a rituali satanici, finiscono per convincersi che sia un orrore assolutamente autentico. Ahimè, questo è un problema che oggi è tornato a galla e l'ho raccontato a fondo nel mio libro «Il mondo sottosopra» sotto forma della ben nota teoria del complotto di QAnon, dove esattamente allo stesso modo si è inventato un mondo di rituali satanici, di pedofili e che sarebbe collocabile nel Partito Democratico e non c'è verso di sgretolare questa fandonia, questa bugia che abbiamo raccontato già. Io vi rimando un altro video presente sul mio canale, dedicato proprio alla bufala del Pizzagate e da tutto quello che poi ne conseguì. Come nota anche il giornalista Pablo Trincia, di cui ho parlato a fondo anche di lui nel mio libro perché si è occupato di una vicenda molto simile capitata in Italia, quella storia aveva turbato gli americani al punto da indurli a scoprire un nuovo nemico interno invisibile. Eccola qui la chiave, un nemico più pericoloso di quello rappresentato nel passato recente dalla minaccia comunista, che era sbandierata dai sostenitori del maccartismo e della lontana Unione Sovietica nel corso della Guerra Fredda. Questo nemico invisibile poteva insinuarsi dentro le città e le scuole, dove poteva colpire gli esseri più piccoli e indifesi della società. Il cosiddetto S.R.A., un acronimo di Abuso Satanico Rituale, era esattamente il nemico invisibile che tanti avevano bisogno di trovare e che ancora oggi tanti hanno bisogno di trovare. Un problema enorme però risiede nella cosiddetta terapia, che sembra indurre sempre più persone a ricordare episodi traumatici della propria infanzia. Episodi per i quali, prima di incontrare gli psichiatri, nessuno aveva mai avuto alcun sospetto. Non c'è alcuna evidenza scientifica infatti che la tecnica della regressione ipnotica abbia qualche autentica efficacia o che permetta realmente di recuperare ricordi perduti. Anzi, il sospetto che si fa sempre più forte è che siano proprio gli stessi terapeuti, con le loro domande mirate, a indirizzare le parole dei pazienti, convincendoli di avere subito abusi che, nella realtà, non si sono mai verificati. Ma l'isteria collettiva, alimentata dai programmi televisivi scandalistici o oggi dai social, che fomentano l'ansia e la paura del pubblico, a quell'epoca è inarrestabile e si verifica quello che il sociologo Stanley Cohen chiama panico morale, cioè una forma di panico collettivo ingiustificato provocato da notizie più o meno distorte a scopo sensazionalistico su un fenomeno ritenuto da molte persone una minaccia o un pericolo. Ecco, fateci caso se non è esattamente la stessa cosa che sta capitando oggi con le teorie di QAnon e, in una versione anche questa un po' diversa, ma che ha le stesse finalità e le stesse origini, con la bugia della mancata vittoria di Trump perché dovuta a presunti brogli. I brogli non ci sono, non è mai stata trovata nessuna traccia, eppure tanti hanno bisogno del nemico, il nemico invisibile che avrebbe complottato, che avrebbe sovvertito quello che per loro è il mondo reale. Quindi capite un altro esempio di come la fantasia e di come il bisogno di avere conferme, rassicurazioni circa quella che è la propria visione del mondo, trova a un certo punto una conferma in una teoria talmente complessa, talmente vasta, ma totalmente falsa, perché indimostrabile e senza una sola prova verificabile, è quello che serve per queste persone per trovare un senso nella loro vita e per non dover mettere in discussione il fatto di aver creduto e di aver basato la propria vita su menzogne senza nessun fondamento. È un discorso ampio, capire come mai noi crediamo a cose assurde. Ho dedicato, lo sapete, un corso, il mio corso di psicologia dell'insolito online che trovate al sito web massimopolidorostudio.com e che potete frequentare online quando volete. Avrete accesso a quasi 150 momenti tra video-lezioni, audio-lezioni, approfondimenti, file da scaricare, case studies, eccetera, eccetera, che resteranno a vostra disposizione per sempre, ma al termine di quel percorso capirete finalmente come mai davvero noi siamo in qualche modo costruiti, il nostro cervello è costruito per arrivare a credere all'incredibile e come poi ci siano tante persone che approfittano di queste caratteristiche del nostro cervello e imparerete a distinguere quelli che sono gli indizi di truffe, inganni, imbrogli di vario tipo. Quindi vi invito a scoprire il mio corso massimopolidorostudio.com e allo stesso tempo ringrazio anche tutti i naviganti che sono sbarcati sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, grazie alla quale riusciamo a realizzare questi e altri contenuti. Sbarcate anche voi e avrete accesso a tantissimi documenti, contenuti esclusivi, video realizzati apposta dietro le quinte, un mini corso di indagine dei misteri, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per oggi per essere stati con noi. Si conclude la nostra settimana nella stanza delle meraviglie, ma domani ci aspetta l'appuntamento con Strane Storie. A presto!